Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi, contrabandieri, macedoni. Gesuiti e Euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Per le strade di Pechino erano giorni di maggio tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica, finto rock, la new wave italiana, il free jazz, punk inglese, neanche la nera Africa. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Avrei bisogno di un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente.